appena finita la diretta delle estrazioni è già arrivato il primo scontrino vincente bravissima bravissima sonia ha centrato il bellissimo ambi in terzina 35 36 abbiamo sfiorato ancora una volta il terno secco infatti è uscito il 56 a bari noi avevamo il 55 ok ragazzi qualcuno mi dirà ma dove era questa visione dove non era i soldi saltimbanco diranno sicuramente mi manderanno sicuramente questo messaggio beh ve la faccio vedere subito era una previsione gratuita postata sul mio canale youtube eccola qua la previsione postata su questo canale ragazzi su questo canale non in altri canali è stato postato questa mia previsione guardate allora vi faccio vedere quante persone l'hanno visualizzata 1283 visualizzazioni vedremo quante scontini mi arriveranno la previsione è stata postata il 17 marzo 2023 c'è il video che non smentisce andatevi a vedere il video avevo detto di mettere in campo per soli sei colpi bari caia sono solo due terzine 18 17 18 e 35 e 35 36 55 stasera è uscito 35 36 56 su bari ragazzi bene ragazzi questa è stata un video veloce per informarvi per chi l'ha giocata mi raccomando mandatemi la foto dello scontrino sul mio whatsapp per chi non l'ha giocata pazienza ragazzi pazienza buona serata a tutte buone vincite sempre con rosario gallo e con previsione vincenti punto it